Anche Sestriere si prepara per ospitare a gennaio le gare delle universiadi e in questa località che è famosa per lo sci alpino, per la Coppa del Mondo, per le Olimpiadi e i Mondiali, si garaggerà nello sci alpinismo e sarà un appuntamento molto spettacolare. Sindaco Gianni Ponset ci sarà una gara in notturna e quindi chi ha finito di sciare potrà sedersi a sorseggiare un aperitivo e vedersi una gara veramente spettacolare. Sì, buongiorno a tutti, sarà uno spettacolo unico perché questa nuova disciplina sia per Sestriere che per la maggior parte degli sciatori porta in un momento della giornata a rivivere sulla pista illuminata quegli eventi grandiosi di Alberto Tomba, delle grandi gare, ma soprattutto porta al pubblico a vivere una disciplina che è diventata secondo me più importante durante il periodo del Covid, in quanto le impianti di risalita erano chiusi, sono state utilizzate quindi le pelli per risalire le nostre bellissime montagne olimpiche e nuovamente per queste gare si salirà lungo le pendici del Monte Alpette, sulle piste che ospitarono le Olimpiadi e tutto questo fatto in notturna farà sì anche che negli altri emisferi si possa vedere in diretta una gara importante. Ricordo anche che viviamo nelle montagne olimpiche dove il nostro grande atleta dello sci alpinismo di Souse Dulcs, Ida Ling, ha vinto diverse gare anche di Coppa del Mondo, quindi abbiamo gli atleti, abbiamo i pendii bellissimi e sicuramente tanti appassionati che si sono rivolti a questa disciplina. Sestriere è pronta e dovrà sicuramente cercare di vivere questo momento come ha vissuto sempre gli altri eventi di grande sport. Ecco, come la vive Sestriere questa opportunità delle università e ricordiamo che anche qui a dicembre farà tappa la fiacola, quindi ci sarà festa e ci sarà dell'entusiasmo. La viviamo benissimo, io me la ricordo vagamente ma nel 1966 ai tempi del grande Nebbiolo Sestriere ospitò già la prima università italiana, quindi riaverle in questa occasione con una specialità nuova che sarà specialità olimpica a Milano-Cortina ci dà veramente la motivazione per far bene insieme alla Sestriere S.P.A., lo Sporting Club Sestriere sicuramente per vivere questa disciplina sportiva nuova che sicuramente darà spettacolo ai turisti che saranno presenti nella località in quel periodo.